Salve a tutti i Blazers e bentornati nella mappa del jetpack parkour. Ragazzi se ricordate bene alla fine della scorsa puntata avevo buggato tutto, avevo perso il jetpack che tra l'altro non ho ancora. Sebbene io abbia rifatto i livelli, per qualche motivo qui non ce l'ho. Forse non ci ho fatto caso ma solo all'interno del livello ha il jetpack, mentre all'esterno no. Comunque ci eravamo lasciati che avevamo appena cominciato, giusto per vedere, il livello normale. Infatti qui abbiamo il livello normal, prima di cominciare vediamo se sono attivi i codici, perché vorrei mettere il tempo a giorno, possibilmente fisso, perché mi dà fastidio giocare la notte. D'altronde non è mica il survival che iniziamo di notte, no? Per cui ragazzi li prendiamo subito, schiacciamo questo tasto e raggiungiamo la prima isoletta, dove dovremmo avere il primo checkpoint e già sono morto. Ok, eccoci qui, siamo arrivati nella prima isola, prendiamo nuovamente del carburante e iniziamo a fare questo parkour che si preannuncia molto difficile. Infatti sono già morto. Allora dobbiamo cercare di andare sul tro... Quando è che sono caduto? Così, c'era una buccia di banana lì, scivolo, tanto morte più morte meno. Mai che cazzo ce ne frega noi. E va bene, allora vogliamo fare sul serio? Vogliamo fare sul serio, cazzo? Quanto pare no. Sì, ho finito il carburante, però sono qui. Solo che oramai che cazzo voglio fare? Eh, tipo, adesso non ce l'ho già più, quindi muoio. Però la tecnica era giusta. Dai, sento che ce la possiamo fare. Ho capito più o meno come fare, devo solo raggiungere il primo blocco. In un modo decente, voglio dare una spruzzatina sola di jetpack e arrivare lì tranquillo. Devo farcela. E continuo a scivolare. Prepariamoci il tasto kill e vaffanculo, perché qui non ce la si fa, se no. Devo dargli tipo due colpetti qui, vero? Sì, però sono morto come un pirla. Va bene, cerchiamo di superare il pezzo rosso. Tipo così e tipo così sono morto lo stesso. Ok. Attenzione, ce l'ho fatta. Il primo salto l'ho fatto. Ok, adesso dobbiamo però fare tutti gli altri 20.000 salti. Tipo così. Ok. Poi facciamo tipo così. E va molto bene. Poi tipo così. Però occhio, perché qui era meno distanza. Poi adesso possiamo fare così in modo molto semplice. e direi di saltare lì sopra. Perché l'ho fatto? Potevo arrivarci tranquillamente. Ok. 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 Attenzione. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto il secondo checkpoint. Con non poca fatica. A questo punto devo andare su quell'altra isoletta. Ma come? Allora, proviamo a usarlo saggiamente. No, l'ho già finito. Fanculo. Ehm. Cosa devo fare qui? Devo saltare in quest'altro punto. E ce la si può... È vero che c'è il blocco rosso. Dai, si può fare comunque. Si può fare. Ho anche conservato un po' di carburante. Posso... Pure l'acqua mi uccide? Ma l'acqua dovrebbe essere ciò che dà la vita nel mondo. Pure l'acqua mi uccide. E che cazzo? Ok, ci siamo. Dai. Ma io perché insisto a fare le mappe parkour? Ogni volta ci casco e poi mi ricordo il motivo per cui non le voglio mai fare. Veramente io divento scemo a fare queste cose. Ok, fino a qui ce la si fa. Qui potremmo addirittura usare l'altro salto e arrivare qui senza il boost. Per poi trovare un modo per arrivare qui. No, è impossibile senza il boost questo. Però attenzione, il primo salto si può fare senza... Senza carburante. E anche fino a qui ci si arriva. Ok. Poi qui è abbastanza easy. Qui... Ehm... Ma cosa che ho saltato? Non mi puoi uccidere così! Non puoi! Non puoi! Stronzo! Oh mio Dio! Ma vaffacculo! Vaffacculo! Attenzione, raga! Attenzione! Attenzione! Ok! Ok, sono arrivato qui. Adesso salto. Boost! E ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Oh mio Dio! Oh mio Dio! 9 minuti per arrivare fino qui, ragazzi. 9 minuti. Sono sicuro che se lo rifacessi... Però non proverò a farlo. Perché se no impazzisco... Lo rifarei tipo in un decimo del tempo. Però, ragazzi... Mamma mia, è stata veramente una impresa. E adesso devo arrivare qui. Perfetto. Ok. Sembrava anche più difficile di quello che era in realtà. Poi qui easy. Poi qui abbastanza easy. Poi qui... Quasi! Quasi! Questa... Questa volta non rage quitto. Perché quasi? Perché sono qui, mo? Ma che cosa sta succedendo? Non c'era il checkpoint lì. Questa volta non rage quitto. Non avete idea. Non avete idea... Di quanto ci ho provato. Ma sono tornato qui. E qui c'era anche un checkpoint. Quindi prima... Non si sa perché non l'ho preso. Però... Ok. Possiamo andare avanti. Nuovamente. Quindi... Eravamo arrivati giusto qui. Dove stavamo facendo questo fottuto parkour pieno di blocchi rossi odiosissimi. E bam! E si arriva qui. E si arriva qui. E si arriva qui. E poi... Beh che il carburante ce l'ho ancora volendo, eh. Non lo sto usando ma... Potrei. Tipo adesso mi... Conveniva usarlo, infatti. E qui mi conviene fare così. Ok. E qui... Ci si prova. Ok, ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ci ho messo una vita a farlo. Ma solo perché non ho preso il checkpoint. È stato semplicissimo. Wow. La porta in mezzo... Lasciamola perdere. Quella è un caso a sé. Dunque ragazzi. Altro livello normale. L'ultimo livello normale. E poi passeremo a quelli difficili. Vorrei dire che non vedo l'ora. Ma in realtà... Eh. Non sarà semplice. Allora. Arriviamo alla prima isola. Così. E poi arriviamo alla seconda. Non così. Ok. Iniziamo subito a killarci. Non mi torna qualcosa. Perché se io ho già finito il carburante. E devo arrivare fino lì. Come diamine faccio? Punto di domanda. Non faccio semplicemente. Sì. Devo tipo dosare alla perfezione i salti? Eh. Sì. Ma sti cazzi. Cioè. Non è facile per niente. Ok. Però qui ci siamo arrivati. Bene. E adesso. Qui ci andiamo in parkour normale. Anche qui. Sono scivolato ancora. Ci sono delle banane in questi livelli. Perché continui a scivolare? Perché il parkour? Perché non un minigame? Non lo so. Dio. Ok. Siamo tornati qui. Speriamo che le banane non ci colpiscano ancora. Perché. Che cazzo era sto salto? Devo spaccare qualcosa. Devo spaccare cazzo. Qualcuno mi porta un fottuto calmante. Vi prego. Non ce la sto facendo. Dai. Ok. E la madonna. Cos'è successo? Cosa? Cos'è successo? Che cazzo è successo? Ma scusa. Mi ha fatto volare in cielo? Mamma mia. Sono finito nel sole tra un po'. Attenzione. Ho anche conservato del carburante. Non si sa mai. Potrebbe tornare utile. Però adesso. Devo smetterla di failare questi salti. Possibilmente. Perché è una cosa abbastanza imbarazzante. Ok? Ok? L'ho failato. L'ho failato. Parcours sulle endrod. Ma siamo malati o cosa? Questa è malattia ragazzi. Ok. Però ho sfruttato l'ultimo po' di carburante. E sono arrivato qui. Easy. Facile. Ce l'ho fatta. Non ci sto credendo. Vai. Ah, non è finita. Ah, non è finita. Mi ero illuso per un... Ah, c'è anche quello? Eh, quindi. Tutto sto po' di roba... Metà livello. Va bene. Ok. Facciamo. Vabbè, se proprio devo. Wow, c'è anche il parkour con le scale. Sono contento. Sì. Yuppi. Il parkour con le scale. Li amo così tanto. Perché no? Dai, che è semplice. Dai. Parkour sulle choro splente. Questa è proprio... Non me la sarei neanche sognata la notte. È una cosa così malata. Però loro l'hanno pensata. E però non è neanche così difficile come mi aspettavo. Dai. Siamo già arrivati qui. Fai così. Sono caduto. Porca Eva. Devo rifare le scale, vero? Devo... No, vabbè. Rifacciamo da capo. Vaffanculo. Ok. Da qui devo salire qua sopra. E da qua sopra mi butto. Fino a qui. Solo che non so se dovevo scendere. Ma immagino di no. Anzi, preferisco saltare da qui. Mi appendo. E c'è un checkpoint. Oh mio Dio, c'è un checkpoint. Ok, lì cosa c'era? Niente, infatti. Quindi ho fatto bene. Chi sei tu? Un'altra testa inquietante che mi osserva? Fa qualcosa questo? No. Ti posso distruggere? No. Quindi sei totalmente inutile. Va bene. Perfetto. Buono a sapersi. Ok. Si va qui. Parkour con le fottute endroad. Devo evitare di andare sul blocco rosso. E sono morto, chiaramente. Ok. Finora, più o meno, ce la stiamo... Stiamo cavando. Ok. Ok. E mo? E vabbè, mo c'ho il carburante. Quindi easy. Non l'avevo ancora usato. E siamo arrivati qui. Perfetto. Lì c'è il finale. Giusto? Ma temo che... Cosa serve tutto ciò? Posso volarci direttamente, no? Sì. Vabbè, semplice. Premi quando tutti sono arrivati. O meglio, quando tutti hanno finito. Io sono solo, quindi premo. Oh mio Dio. Ragazzi, anche i livelli normali sono stati completati. Mamma mia. Questa mappa si sta facendo sempre più difficile. C'era una netta differenza tra i livelli normali e quelli easy. L'abbiamo notato benissimo. Però sono preoccupato di queste cose verdi qua dietro di me. Vale a dire, i livelli difficili. Infatti, nella prossima puntata faremo i livelli difficili. E ragazzi, non so come ce la farò. Veramente non lo so. Sostenetemi con un like, aiutatemi a sopravvivere a questi scleri. E forse insieme ce la faremo. Detto ciò, io vi saluto. Quindi un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti. Ciao a tutti.